ciao a tutti i ragazzi e bentornati ancora una volta qui su mobila io sono alessandro costanzo ed oggi vi parleremo di uno di quegli strumenti che diamo molto per scontato ma che in realtà utilizziamo quotidianamente che fanno e possono fare la differenza stiamo parlando del mouse oggi vi parliamo allo specifico del mouse mx master 2s siamo felicissimi di aver utilizzato e di utilizzare tuttora il primo modello che è semplicemente l mx master che ha aperto veramente una serie molto riuscita molto fortunata e vediamo subito perché vi faccio vedere qui abbiamo il vecchio diciamo il vecchio modello ergonomia veramente fantastica almeno la nostra mano la accoglie la mia la accoglie in modo veramente perfetta uno scroll veramente molto piacevole addirittura ha questo infinite scroll che per le pagine web è molto utile abbiamo un'altra rotella qui sul pollice che ci permette di personalizzarla e quindi di scorrere anche lateralmente non solo verticalmente le pagine poi abbiamo dei tasti completamente personalizzabili che si possono assegnare aperture di cartelle insomma chi più ne ha più ne metta quindi personalizzazione e qualità costruttiva oltre che ergonomia ma comunque iniziamo subito con l'unbox del prodotto e poi vediamo quali sono gli aggiornamenti rispetto al precedente modello ok questo intanto vediamo subito il packaging veramente esclusivo direi mi piace molto addirittura un magnete che permette questa chiusura o perlomeno di non aprirsi al contrario quindi pack di logitech assolutamente promosso allora come si apre questo coso eccolo qui veramente veramente bello anche questa finitura ricordiamo che è disponibile in diverse finiture addirittura blu bianco quindi attenzione bellissimo fantastica identico meno che questo pulsante di connessione che viene eliminato rimane anche uguale la connessione fisica quindi per la ricarica della batteria che è micro usb è la cosa che ci è piaciuta di meno visto che nel 2019 ormai lo standard è il type c e non più il micro usb ok quindi andiamo a vedere che cosa c'è dentro la confezione a parte il mouse il piccolo ricevitore usb per il sistema unify e poi abbiamo questo cavo usb che va a finire quindi da usb standard a micro usb libretto delle istruzioni parliamo adesso delle specifiche tecniche cosa è cambiato è cambiata la risoluzione del puntatore che è aumentata passa da 1600 dpi a 4000 dpi quindi una predisposizione per le alte risoluzioni come l'8k assolutamente a vantaggio di questo nuovo mouse l'infinite scroll continua a persistere quindi lo scroll infinito e poi una cosa che veramente ci ha entusiasmato hanno inserito la tecnologia chiamata logitech flow una tecnologia che permette di utilizzare un unico mouse contemporaneamente su due desktop diversi ma attenzione non due desktop dello stesso computer due desktop di computer diversi quindi condivide il movimento del mouse quindi lo sincronizza in due computer contemporaneamente quindi io posso passare da un desktop all'altro e in più da un desktop all'altro è presente anche la possibilità di copiare ed incollare file questo questa tecnologia ci permette di spostare agevolmente un file da un computer all'altro senza senza dover accedere alle risorse di rete e quindi perdere tempo ad aprire cartelle cercare le varie directory quindi riteniamo che questa può essere veramente una carta vincente e che giustifica per chi chiaramente come noi fa utilizzo di più computer l'acquisto del nuovo modello anziché il vecchio che ricordiamo essere praticamente identici nelle funzionalità se non nella qualità di risoluzione che può essere giustificata solo se avete dei monitor ad altissima risoluzione ultima ultima novità ultima miglioria è l'autonomia della batteria che già non era male era dichiarata a 15 giorni se non erro contro i 70 giorni dichiarati nuovi della di questa autonomia di questa nuova autonomia di batteria che comunque rimane utilizzabile anche sotto carica quindi assolutamente non rimarrete mai a piedi niente ragazzi queste erano le nostre la nostra piccola diciamo recensione sbarra unbox su questo prodotto che fa la differenza perché lo utilizzate veramente ogni giorno quindi avere un mouse che ti permette di avvolgere completamente cioè che la tua mano avvolge completamente il mouse senza costringerti in posizioni poco naturali questo è sicuramente un qualcosa che è avvantaggio sia della velocità di utilizzo comunque del computer che anche della nostra salute perché ricordiamo stare tanto al computer soprattutto utilizzare dei mouse che non sono propriamente ergonomici possono causare a lungo andare dei problemi a livello tantino diciamo a livello dei tessuti quindi vi consigliamo questo mouse nella maniera più assoluta ci siamo trovati bene con il primo modello e siamo certi che ci troveremo benissimo anche con questo secondo modello ragazzi per questa puntata di che cosa di immobile è tutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate dei commenti se vi fa piacere così possiamo interagire parlare un attimino di quello che è che vi pare e noi ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui sul canale di immobile movier dreams